Alcuni dei seguaci in Abissinia Mohamed era molto vicino ai suoi seguaci. Era solito incontrarli nella casa di Al-Arkam, una piccola scuola dove insegnava loro i valori dell'Islam e la moralità, infondendo sentimenti di responsabilità ed impegno. Vedendo la sofferenza e la pressione di alcuni dei suoi seguaci, li consigliò a cercare rifugio in Abissinia. Descrivendola come un terra di virtuosi regnata da un leale re cristiano, sotto il quale nessuno sarebbe stato minacciato ingiustamente. Infatti così fu.